Si è rinnovata anche quest'anno la partnership tra l'ex istituto nautico di Salerno e l'associazione Il Vecchio e il Mare, da anni impegnata a promuovere la cultura marittima anche e soprattutto grazie allo storico motopeliero Orca, imbarcazione che ha ospitato anche quest'anno per la quarta volta di fila le attività pratiche con uscite in mare degli studenti dell'abbiennio della scuola di Torrione, che hanno seguito anche attività teoriche di formazione in collaborazione con la stazione marittima e la Travelmar. Sicuramente una maggiore passione da parte dei ragazzi più piccoli che svolgono un biennio generico e che invece grazie alla collaborazione con l'associazione Il Vecchio e il Mare riescono a vivere i primi approcci con il mondo del mare e con le esercitazioni nautiche in generale ed ecco che fanno una scelta più consapevole per il triennio, per le opzioni formative che il tecnico nautico fornisce e quindi sono più in grado di scegliere liberamente se diventare capitani, direttori di macchine o se dedicarsi alla logistica, una passione per il mare che quindi si innesta nella tradizione ma che si apre all'innovazione. La presa scelta prima classe fa bene perché chiusciamo che i ragazzi si invogliano già il primo anno al mare, ci sarà un battesimo del mare per questi ragazzi, quindi lo facciamo come gli altri anni e quest'anno è stato un po' apprensivo, le ho uscite in mare perché il tempo è stato un po' incerto, c'è stato un po' la condizione da poco vento, avvento in provvisa e rischio di qualche temporale, comunque tutto è andato bene, abbiamo contentato tutti, i ragazzi sono stati soddisfatti, si sono mossi con disinvoltura sulla barca perché la nostra è una barca abbastanza sicura sotto la mia guida, i ragazzi sono stati anche attenti all'imparare e a vedere tutto quello che dicevo io.